Scuola, c'è preoccupazione per il futuro dell'Istituto Verga Gentile, attesa il giudizio del Tar. Rimane ancora in saluto la vicenda dell'Istituto Comprensivo Verga, risultante soppresso per la Regione. Come si ricorderà decentemente, su proposta della conferenza provinciale, che ha il compito di proporre il ridimensionamento della scuola della provincia di Siracusa, l'assessore regionale dell'Istituto Verga di Siracusa, afferma il sindacalista Giuseppe Gentile della Gilda. Il sindaco aveva presentato ricorso al Tar per la rievoca ad una sua soppressione auspicata dalla conferenza provinciale. Infatti, in data 16 novembre 2022, ha avanzato proposta meritatamente all'Istituto e in questione all'assessore regionale all'istituzione, il quale conseguentemente aveva deliberato in favore di predetta soppressione. Il numero degli alunni iscritti, 462, era inferiore di poco al numero previsto per il mantenimento dell'autonomia, 500, senza tener conto che ancora non era scaduto il termine per le iscrizioni. La scadenza era il 31 gennaio 2023, ben 25 giorni dopo la decisione. Ritenevo che la motivazione fosse più che sufficiente per revocare la soppressione della scuola di gara sindacalista. Come è stato possibile prendere una decisione prematura basata sugli alunni iscritti se ancora mancavano 25 giorni alla scadenza delle iscrizioni? Tant'è che alla scadenza del termine gli alunni erano più di 500. Purtroppo non è stato così, il TAR ha disposto il riesame da parte dell'assessore regionale all'istituzione del provvedimento entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che tenga conto delle doglianze espresse dal comune ricorrente con il ricorso e della necessità di dedurre in maniera adeguata e puntuale in ordine dei presupposti dimensionali. Il TAR si è affidato al buonsenso dell'assessore. Chi è affidato alla clemenza di altri è già perso ed è meglio che si prepari a subirne le conseguenze. Può considerarsi già spacciato. La capabilità di chi aveva deciso l'eliminazione dell'Istituto Verga di Siracusa è stata talmente forte che ha prevalso l'illogicità alla razionalità. Si perderà un presidio dello Stato, si creeranno nuove classi pollaio, si perderanno posti di lavoro, si incrementeranno fenomeni di devianza minorile e criminalità giovanile. Con buona pace di tutti quelli che quando relazionano a delle pompose conferenze dicono che tutte queste cose le vogliono combattere ed eliminare. Concluda Giuseppe Gentile della Federazione Gilda Unams.